Musica 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 Buonasera a tutti siamo Ron Simone dei vecchi Ganaticos Allora, campionato e coppa Raccontami un po' L'impressione di questa partita Che vi ha tenuto In ballo fino alla fine Sì, diciamo che il campionato E' stata Una lunga marcia che ci ha visto Sempre protagonisti, che siamo sempre stati primi E anche la finale L'abbiamo comunque vinta meritatamente Soffrendo poco e niente Contro Paris San Gennaro Questa finale Invece di coppa, devo dire che Non so se si sente il fiatone E' stata Molto, molto Provante Perché comunque Gli avversari Di livello Ci hanno messo in difficoltà Noi comunque siamo una buona squadra Abbiamo rinunciato a fare l'open Per motivi di età Anche se volendo Probabilmente Anche di fiato Guarda lì Soprattutto di fiato Perché Il tasso tecnico della squadra E' più che discreto Però abbiamo preferito fare una cosa Per divertirci Beh E Sì Vincendoci si diverte Però ecco questa è stata Bella, bella sudata Combattuta fino al fuoco Allora in bocca al lugo Grazie Crepi Se ci arriviamo al Primaverile Faremo anche Primaverile E buon calcio a tutti Ciao ragazzi Grazie